Musica Benvenuti a tutti voi qui a questa manifestazione fortemente voluta dal Presidente del Parco regionale Vincenzo Giffatti, quale va il mio primo ringraziamento per aver scelto gioia. Il mafogato Vincenzo non ha bisogno di presentazione ma gli verrà lo atto che quando lui presiede quest'ente è riuscito a quantomeno a dargli una visibilità e credo che a breve usciranno i dati importanti del suo lavoro in questi anni. Grazie a tutti voi, sinceramente non mi aspettavo di trovare una sfidenza così copiosa ma soprattutto di trovare entusiasmo in una giornata come questa fredda ovviamente eravamo convinti che il tempo non fosse diverso da quello che è oggi nel senso che purtroppo quando si organizzano queste iniziative nel periodo di Natale ci sono problemi come potete immaginare che sono a volte prevedibili o imprevedibili. Ciò nonostante noi oggi parliamo di quello che è un tema ma soprattutto quello che è un tema che abbiamo promosso tempo fa nel 2015 e devo ringraziare l'amico Luigi Bosco e come sapete come sanno tutti voi il mio grande amico nonché collega di studio con il quale nel 2015 facendo un ragionamento molto semplice sull'Alto Casertano pensando a un brand di valorizzazione di tutto l'Alto Casertano, non solo del Matisse e lo definiamo puntiamo in alto. Questo puntiamo in alto è diventato poi l'artemotico di quella che è stata la mia presidenza perché ogni volta che ho scritto anche l'alto del mio insediamento ho sempre inserito l'hashtag puntiamo in alto. Perché? Perché è necessario che oggi si faccia un ragionamento diverso, si faccia un ragionamento di valorizzazione del territorio e devo dire la verità, quello che tu dicevi Alessandro è vero, a prescindere dalle appartenenze politiche, dai campanini come si suol dire, stiamo lavorando tutti quanti, istituzioni, amministrazioni, associazioni di categoria, cittadini, perché abbiamo un obiettivo, che è un obiettivo che ci verrà riconosciuto fra qualche anno, è ovvio che non ci sarà riconosciuto oggi perché i dirittori ci sono sempre, gli eviconoscenti ci saranno sempre e continueranno a parlare magari, però io dico che quello che sto vedendo in quest'anno e mezzo è qualcosa di straordinario, è una compartecipazione alla vita del Matese, alla vita sociale, economica, alla vita legata ad uno sviluppo del territorio che non può più aspettare. E quando sono venuto la prima volta a gioia, proprio qualche giorno, qualche mese fa per parlare del parto nazionale, notai anche la bellezza di questa sala consigliaria perché si presta per iniziative di questo tipo e immaginai che potesse essere la prima tappa di questo progetto definito, puntiamo in alto con il Matese, che è un progetto che ha avuto anche un contributo della regione Campania per creare che cosa? Quello che probabilmente è mancato in questi anni. Ve lo spiego sinteticamente, in uno dei miei primi incontri probabilmente, e mi chiede se lo ricorderà, quando mi insediai incontrai ufficiosamente la comunità del parco e chiesi ai sindaci, mi sapete dire quanti turisti sono venuti da voi lo scorso anno? Cioè mi sapete dare degli indicatori, dei dati? Nessuno mi sente rispondere. Non è un problema. Però è chiaro che se bisogna lavorare sinergicamente per creare le occasioni per sviluppare il territorio, per creare quello che deve essere un brand per lavorare sul marketing, gli indicatori sono fondamentali. Oggi noi non sappiamo sicuramente dei dati del 2018. Potremmo sapere qualche dato appena terminano del 2019, ma potremmo lavorare su quella che è finalmente una squadra di territori che si ritrovano finalmente a parlare del maderese non più come, tra virgolette, problema, ma come opportunità. Devo essere sincero, molto ha fatto anche, diciamo, il parco nazionale. La nascita del parco nazionale ha creato una grande attenzione e come presidente del parco regionale non potevo non sfruttare quest'onda mediata. È chiaro che ci sono tanti problemi che vanno affrontati, vanno analizzati, vanno risolti con l'aiuto di tutti, ma quando parliamo di storia e agricoltura parliamo soprattutto di quello che è il tessuto del madese legato con l'agricoltura e come potete immaginare nella presenza dei sindaci, dei comuni di Gioia, di Prata, di Sant'Angelo della Giscanina e di Arife, dei castelli, i castelli del madese. In questo caso parliamo del versante casertano, della provincia di Caserta, che non hanno avuto quell'attenzione negli anni che era necessaria e che meritava, perché i castelli che abbiamo in questo versante casertano del madese sono straordinari e rappresentano un po' anche la vera ricchezza del territorio, perché quando gli amici di Erbanina a Milano loro hanno raccontato a spazio campagna la loro provenienza hanno parlato del castello. Vedete, sono piccoli aspetti, segnali che quando vengono raccontati, che cosa fanno? Creano attenzione, il pubblico ascolta, magari per noi sono scontati perché li conosciamo e va bene così, ma gli altri invece ascoltano con attenzione e vogliono capire, vogliono conoscere. Allora, quando poi a questo associamo l'agricoltura e per questo ringrazio il direttore dell'agricoltiretti e ringrazio Carlo Scatozza come giornalista del settore agroastronomico, perché con loro noi possiamo fare un ragionamento ancora più tecnico, ma soprattutto possiamo incastrare quello che è il tessuto socio-economico del territorio. Ed è chiaro che quando ci siamo confrontati e abbiamo parlato con l'agricoltiretti inizialmente, e quando abbiamo analizzato i problemi del parco regionale, il direttore Luffredda aveva una lista infinita di quelli che erano i problemi, che non sono stati disolti, attenzione, ma che in questo momento storico di transizione, di passaggio, possono essere affrontati e rappresentano i primi punti che dovranno essere, diciamo, attenzionati dal nascituo parco nazionale. Nello stesso tempo, il turismo accessibile. Turismo accessibile che cosa significa? Dare la possibilità a tutti di poter fruire delle ricchezze esistenti. Turismo accessibile significa anche avere la possibilità di trovare un agriturismo che possa cucinare i prodotti per chi fa dieta e chi ha magari dei problemi, per nefromatici, per chi ha problemi, diciamo, di qualsiasi tipo. Allora, su questo bisogna ragionare in maniera sinergica e bisogna strutturare dei pacchetti affinché dei tour operator possano inserire questo territorio in quelli che sono dei dati che vengono consultati nelle tante agenzie di viaggio. È semplice, è semplice, ma nello stesso tempo per realizzare tutto questo non basta un progetto. Per realizzare tutto questo ci vuole tempo e ci vuole soprattutto una programmazione, quello che io dico da un tempo ormai. Quando si andranno a chiedere, quando ci siederemo tutti al tavolo della regione magari per programmare la nuova programmazione che nascerà nel 2021, se non c'è un progetto unitario, io posso anche non siedere. E vi sconsiglio di stare seduti per avere quella progettualità spot magari per realizzare un'iniziativa fino a se stessa. Perché il territorio oggi se non fa sintesi attorno a delle progettualità come questa. Questa è una boccia, può essere una boccia nel mare o può essere l'inizio di un ragionamento più complesso, diciamo un ragionamento complesso che però deve essere poi concreto. Perché se noi mettiamo i reti dei castelli, li facciamo conoscere, strutturiamo anche dei percorsi, come vi dicevo prima, facendo attenzione, creando e chiedendo a chi può, in questo caso magari per la regione, strutturare dei percorsi accessibili per i turisti, per far strutturire il territorio, per essere aperti a tutti, allora è chiaro che poi dopo dovremmo essere bravi noi ad intercettare quel turismo di qualità che tornerà, verrà e parlerà di questo territorio. È una piccola rivoluzione. Io sono convinto che abbiamo in mano e mezzo fatto veramente tante cose, però come qualche amico vi dice, vi convenghi le chiacchiere e poi si fermano. Adesso è necessario fare i fatti. Allora questo è il primo incontro, li puntiamo in alto con il Maglise, ce ne saranno altri tre, a Rolteo ci saranno altri tre incontri, ci saranno altri tre incontri, ci saranno altri tre incontri, ci saranno ad Alifio, ci saranno a Prato, ci saranno a Sant'Angelo e a Raviscanino, ovviamente Sant'Angelo e a Raviscanino lo faremo in un solo dei due comuni, organizzeranno loro, si organizzeranno loro, ci saranno loro dove? dove farlo, perché dopo dovremmo creare un opus, o dove inseriremo quelle che sono appunto le specificità del territorio, con delle opportunità e con quelle che sono le criticità da risolvere. Non è semplice, ma vi assicuro che quando si lavora per un fine, per un obiettivo come questo, si può realmente fare bene come abbiamo fatto in questo anno e mezzo nelle tante iniziative organizzate. Allora io vi dico, continuiamo in questo modo, facciamo sempre più squadra, però iniziamo anche a dire che questo è il territorio che per essere messo su un opusquoro, su un neve, deve offrire. Non basta quello che abbiamo fatto fino ad ora, dobbiamo fare molto di più, dobbiamo fare molto di più e penso che, guardate, non servono grandi risorse, non servono milioni di euro, serve la programmazione, questo è quello che io dico. Dico da tempo e soprattutto sto vedendo che da parte di molti sindaci c'è un'attenzione che prima magari non c'era o probabilmente mancava anche quel cungolo. Io mi rendo conto che a volte esagero nell'organizzazione di queste iniziative e questi convinti, però penso che piano piano stiamo avendo anche dei risultati concreti. Ovviamente questo progetto lo faremo poi anche nel versante medievale del parco regionale del Matesi, quindi lo faremo anche perché ci sono altri castelli che sono privati ovviamente e lo estenderemo e lo proporremo anche al massimo parco nazionale. C'è un'attenzione non indifferente sui castelli e questo ve lo posso assicurare e con Damiano ne abbiamo parlato più volte e ritengo che ci sia la possibilità realmente di strutturare e di fare anche bene, però dobbiamo essere nello stesso tempo e dobbiamo sentire tutti gli attori del territorio a partire anche da chi oggi ha strutture ricettive, perché la prima cosa che dovremmo poi fare è coinvolgere chi ha delle strutture ricettive, chi ha dei turismi, del dembreco, delle case vacanze, iniziare a censire, iniziare a capire dove sono, quali sono e soprattutto quello che vi dicevo prima, perché quando nel 2008 io ho chiesto quanti turisti sono venuti da lui, nessuno mi ha saputo dare una risposta. Adesso lo sappiamo. Adesso lo sappiamo. Quando l'ho fatto era in 2008 non c'eravamo. No, 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 anche io c'erano prima, però lo avete dire. Il problema qual è? È che, come spesso accade, il passato serve per capire che cosa è stato fatto, però a prescindere da quello che è stato fatto in passato, oggi dobbiamo, secondo me, lavorare con un programma comune. Allora, gli indicatori. Quando Damiano mi diceva che sono venute mille persone a Prata, per esempio, per me è un dato straordinario. In un periodo natalizio come questo, dove magari ci sono i nominari al Salerno, ci sono tante altre cose da fare. Sono venute mille persone a Prata. È qualcosa di straordinario. Per questo vi dico, sono dati che adesso vanno analizzati per quelli che sono, non come i nomi. Bisogna strutturare delle strategie di marketing. L'importante è di marketing territoriale. Questo è quello più importante che può fare. Questo è il vero lavoro che sindaci, amministratori, presidente del Baco, associazioni, che adesso dobbiamo fare. Diversamente avremo perso un'altra opportunità. Io vi ringrazio. La giornata, o meglio, il pomeriggio, è un pomeriggio lungo, perché ci sono tanti interventi. Chiaramente termineranno, come diceva prima Alessandro, con una sorpresa che non speriamo, anche se qualcuno la sa. E mi ripeto, mi ritengo alla fine di questo 2019 veramente soddisfatto, perché è stato fatto un lavoro di squadra. La cosa più importante è che i risultati verranno. Se continuiamo così, realmente ci dobbiamo tante soddisfazioni. Grazie ancora e amo lì. Buona fine per questo. Grazie. Sono anni che noi sentiamo parlare di turismo. Sono anni che noi diciamo che bisogna montare in alto. E in questo momento, in questo caso, vado a montare in alto con il Matese. Forse questo Matese che fino adesso in altri luoghi è considerata forse un accendimento, allora diciamocelo. Allora diciamocelo che non è così. Diciamocelo per la qualità degli intervenuti. Ci conosciamo quasi tutti, e quindi l'interfaccia non è di persone che sono lì solo variastanti, ma sono persone che vogliono percepire, vogliono capire qualcosa e capire soprattutto quello che noi siamo in grado di proporre, perché di queste terre del Matese, deve nascere dallo studio attento delle nostre terre reali, possibilità di vincenzo. Questa è la cosa importante. E solo gli amministratori e i paesami, passate quel termine, cioè solo noi lo sappiamo. E quindi la nostra capacità deve essere quella di scoprirla e di proporre. E nel caso è il momento di partire. Vi ringrazio per la presenza e vi ringrazio. Siamo contenta di essere qui per tanti motivi. Sappiamo che Arife è un dato di fatto, non perché sono il sindaco di voglio mentale, quello più ricco di storia, cioè lo dico ai libri, lo dico io assolutamente. Quindi noi abbiamo una piccola torretta, non so se un modo di dire un po' diverso. Quindi per noi rappresenta come rappresentava il secondo, addirittura, leggevo sulle storie, Carlo D'Angiò addirittura ci tenivano a ristrutturare ogni tanto quella parte di castello. Quindi perché non dobbiamo farlo noi? Non è vista bene all'interno, qui risponde ad Alessandro. La Riscanino e Sant'Angelo sono più fortunati, perché lo conosco bene il castello lì. Quello di Gioia lo conosco Comino, però quello di Sant'Angelo è abbastanza accessibile, diciamo la verità, si dovrebbe fare forza di strutturare, però insomma è molto più grande. A noi sembra un piccolo torrione, ecco, sono molto sintetica, non voglio rubare spazio a nessuno, però diamoci da fare, lavoriamo. Se dobbiamo Presidente, dobbiamo interpellare chi ne capisce più di noi, muoviamoci, al di là della politica, al di là della regione, in provincia pure abbiamo Alessandro, faccio il buon lavoro di Alessandro, come nuova attività politica, molto interessante sicuramente c'è da lavorare, però Presidente, non facciamo più parlare del castello, per me significa parlare di tutta l'Italia e noi abbiamo da offrire, giusto Presidente? Allora cogliamo volo con entusiasmo noi a rifanno, la ripeto perché noi abbiamo più da far vedere la storia che parla, non lo dico io come sindaci, noi come sindaci possiamo solo dire di essere disponibili, di dare la nostra professionalità, il nostro contributo economico, anche se noi abbiamo forza, sono l'unica dissestata in questo momento, giusto come comuni, sì forza sono l'unica, quindi non so in che modo posso contribuire, però sicuramente con i finanziamenti, con altre concettualità, riusciremo a fare, lascio la parola agli altri perché siamo tanti a dire qualcosa e grazie di nuovo per aver fatto un po' perché sono scomparse normalmente le micro aziende e il nostro territorio è interessato da vere e proprie imprese agricole, da qui devono nascere una serie di riflessioni, dobbiamo prendere atto che probabilmente politiche di investimento fatte in passato non sono state efficaci nel nostro territorio, non sono state efficaci come non è stata efficace in parte dell'attrazione turistica, noi dobbiamo fare in modo che l'attrazione turistica diventi un'attrazione delle nostre rincheze e quindi dico i meno importanti, i prodotti di stato costo fino a quella più importante, le produzioni da tiro basiato del territorio che sono veramente importanti, in questo periodo c'è un mercato fortissimo del basso casertato dell'acqua versano che arrivano nel territorio madesino a comprare i nostri prodotti ad attrazione con prezzi altissimi, con una concorrenza fortissima e da qui nasce un altro sfondo di riflessione, perché non dobbiamo in marketing venderci il marketing log in madese subito, perché direttori non possiamo creare un protocollo di alimentazione, di tipologia agricola, di integrazione del mondo agricolo con il mondo ambientale e quindi accida a tutti, non ho altro da aggiungere e auguro buone feste a tutti. Il marketing log in madese è una cosa che mi ha destato molto a stiglio e come il nome madese viene usato in maniera impropria da aziende del nord e noi non siamo trasportatori di questo nome al di fuori del nostro territorio. Mi sono affacciato da poco alla politica, tutt'altro nella mia vita e non ho mai perso però lo spirito critico che mi ha accompagnato nella mia vita professionale. Con Alessandro si è creato questo rapporto particolarmente dialettico, particolarmente dialettico ma che ritengo sia un po' infale della riuscita dell'azione amministrativa. Un'altra volta scherzavamo sul fatto che i nostri paesi sono dei paesi che da soli, è inutile nascondercelo caro Presidente, da soli non possono sopravvivere. Questo vuol dire che questi comuni di Prada Sanita io mi ritengo di essere fortunati dal sindaco di Prada Sanita perché è un paesino che ha delle grandissime potenzialità. Poi è quello del castello, ce l'abbiamo, abbiamo un castello meraviglioso, un castello che devo dire anche grazie al fatto che probabilmente da generazioni e da anni è privato, lo ha conservato in maniera così fruibile. Volete il fiume? Abbiamo il fiume l'Etre, volete gli itinerari naturalistici? Abbiamo degli itinerari cai bellissimi che fanno invidia a degli itinerari cari del nord. Stanno voi, come diceva Maria Luisa, saperle offrire e allora io ho spesso l'abitudine di mettermi nei panni degli interlocutori. Quando faccio l'avvocata cosa mi metto nei panni del cliente per cercare di capire che cosa vuole nell'immediato. E così ho fatto stiamo facendo, non a caso ieri e oggi a Pratasanita c'è questa manifestazione meravigliosa, ma meravigliosa semplicemente perché Pratasanita è un piccolo presente, quindi basta semplicemente mettere dei figuranti con degli abiti e veramente si ritorna a 2000 anni fa. In sei mesi nel nostro comune che ho la fortuna di amministrare con tutti i ragazzi giovani volenterosi abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto tante cose proprio perché ci abbiamo creduto. Allora io ritengo che questi incontri siano assolutamente fondamentali, ma va tracciato un film rouge che consenta di mettere nero su bianco, ma già da domani, un piccolo programma dal quale poi bisogna parlare. Grazie a tutti. Le associazioni che devono dare una mano anche loro per i prodotti vivici locali, per la sponsorizzazione, ieri sera per esempio abbiamo fatto una manifestazione per lo saferano da Viscanina e che potrebbe essere un volano di sviluppo non solo per il territorio di Viscanina, ma anche per i comuni di Vidovi, ma non solo per lo saferano. Come diceva il sindaco Caporaso, c'è molta agricoltura da far emergere perché da molto tempo è stata sempre diciamo bistrattata e bisogna arrivare perché con la rivolgura si fa avanti. Ringrazio il Presidente, ringrazio il Consiglio Romerano e vi auguro l'Università. Io sono fuori di retorica, entusiasta della mia partecipazione qui con voi, prima di tutto perché ho avuto l'occasione di conoscere molti di voi che fino a oggi ne erano sconosciuti. Secondo molti voi, come noterete, sono una grande intrusa in tutto questo, nel senso che si è allo stavolo con figure che rappresentano istituzioni e che rappresentano comunità. Sì che in questa mia peste di grande intrusa non ho in merassima che sento una grande privilegiata perché la cosa che ho intuito del motivo del mio entusiasmo è che questo progetto che ha una natura chiaramente turistica, in verità è un gran bel cavallo di Troia per poter innestare nell'azione del Parco del Matese o nelle comunità locali e poi un discorso che finalmente ha la stessa delle aspettative di noi. Una delle mie preoccupazioni maggiori, al di là di tutto quello che è il discorso della promozione, quello che ce lo ricordava prima, lo ascoltavo con moltà, a ridurre sofferenza dall'assessore del comodale Scalina. Uno dei belli problemi dei nostri territori, prima ancora di quello di mostrarsi attraenti a livello turistico, è lo spopolamento. Se noi a colpo d'occhio ci contiamo in questa sala che abbiamo quando un'intera generazione che è evidentemente quella che rappresento, non c'è, non c'è. Mi rendo conto che noi abbiamo vissuto uno shock identitario, nel senso che ci siamo trovati a doverci, come ci diceva sempre il sindaco prima, a doverci, a ci hanno somministrato delle problemi di sviluppo e noi per poter stare a fuori aderiti sulla nostra schiena abbiamo fatto finta che quelle cose fossero possibili e fossero attuabili. Così non è stato perché intanto cambiava l'assetto di sviluppo, cambiava la stessa di vita e cambiava la vocazione delle nostre comunità. Quando parliamo appunto quindi di accessibilità, secondo me dobbiamo, e di questo possiamo sentirci tutti partecipi a questo discorso, dobbiamo tornare a capire che ci sono due strade per un cambiamento che possa davvero investarsi. La prima è quella della partecipazione. La partecipazione che non è quella ricantata, è una partecipazione faticosa ed è, e non si compiute sicuramente in un incontro, ma è anche il limite che ci mostra l'assenza totale di misure, se voi immaginate, relative al tema di accessibilità al sostenuto. L'obiettivo di voler investire sulla sostenibilità, che sia la prova più evidente, che sia il sintomo più evidente, e a prescindere da tutto la mia, come dire, da oggi in poi la mia partecipazione, il mio contributo è assolutamente esteso ad ognuno di voi, e a prescindere da questo progetto hanno una maggior ragione per l'occasione di questo progetto, e spero veramente si possa cominciare un discorso più aperto, perché molto spesso di accessibilità si ne preoccupa, si arriva in Italia, nel senso a cose fatte, e quindi sono dei limiti oggettivi, invece che te lo potessi occupare con l'entusiasmo e con lo spirito giusto, che sono assolutamente dei gioco mistozi. Quindi grazie per l'accoglienza soprattutto, per l'occasione e spero di incontrarvi ancora. Grazie. Il gioco di Iscarina si è parlato di zafferano. La coltivazione zafferano è qualcosa di innovativo che sta avendo nel territorio, molto probabilmente l'hanno ripreso dalla vecchia tradizione del Meglio Evo, e che sta avendo un discreto successo sul territorio. Ma io credo che il direttore dell'arco di rettici può dare sicuramente dei consigli e può essere traghettatore su questo. Questo è un progetto di programma. Chissà realtà. Ed è una realtà che è capiturata da venti anni, e che c'erano i conti in questo modo, perché l'agricoltura c'era e c'è, grazie a Dio, l'industria c'era e non c'è, anche per quello che può, c'è di facilitare l'edificio, anche all'Eter, ma anche edifici pubblici che sono comunque scomparsi, molti. E chiaramente hanno impoverito questa zona e entrambi che stiamo vivendo. Pertanto è ben meglio con questo tipo di ricordo, non tanto per l'esperienza dei castelli, perché me ne voglio raccontare una sui castelli. Treniamo la provincia di Campania dove venti anni fa hanno fatto un grossissimo lavoro sui castelli. Che è difficile. Se voi andate sulla zona, se vengono i quarti anni in virtù del tram, del cappemoto, tutti questi castelli sono meravigliosi, tutti accessibili. un'altra parte, un'altra parte, un collega di usci, tutti sistemati. Però il problema è che la domenica stanno chiusi e non hanno dato quel sviluppo che si determinava quando si sono rimaggiati tra i due progetti. Ma per farlo, per questo non è che questo sia da portire questo oggetto ci mangiare in parte. Se noi però non lo caldiamo in un territorio, cioè in un territorio che diventa attrattivo. Perché se noi non rendiamo attrattivo il territorio, noi potremmo fare come i capezzellarangeli come si è disegnata in questa zona, la gente non verrà. Cioè io vedo che molte amministrazioni, voi le vedete tu stesso voi, ogni comune, ogni campanile si fa la sua festa. Non abbiamo un calendario comune. Cioè se io, cittadino di Napoli, vorrei organizzarmi le uscite del prossimo anno o un duro avvento e dire voglio portare in curva anche persone su una tese, quali sono gli eventi della tese? Non esistono. E poi li facciamo. Facciamo la mattina, facciamo l'iniziativa gioia che porta tante persone. Però sono ognuna, ognuno ognuno. Allora dico benvenuti a questi incontri che quantomeno mettono insieme gli altri. E qui va per me il pauso all'Avvocato Giffratti con cui ci siamo conosciuti in un grande scontro mai alla dialettica, mai alla persona, perché io non mi ho detto di dare mai, quindi offre alla persona, ma soprattutto per il coraggio che lui starebbe. quello di tentare, perché in su è un tentativo, perché io non vedo, poi che l'assemblea di questa Benedetto Parco la vedo così efficiente, che vogliono fare come programma. perché dire non è di fare tantissimo. Prima di tutto ti invitiamo, quali portatori di interessi e dove vogliamo andare. perché questo credo che non dobbiamo lavorare. Cioè questo matrice, qual è l'investimento che vogliamo fare? Turismo? Bene. C'è stato due matrimoni da qui in Monte. Una famiglia con lui di altarese, perché l'invito pensa, l'invito fosse, ci stanno posti da dormire. i bambini. Ne abbiamo finanziati 160, cari giorni. dove stanno? Cioè, si sono sistemati male tutte le loro operazioni e non le hanno iniziato a disposizione. Qualcuno non è controllato. Vorrei dire a quei sindaci, andiamo a vedere con l'autorizzazione del comune che ha determinato quei piedi che non funzionano. O se funziona o funziona o non funziona male, ma vogliamo ci trovare. Perché dobbiamo essere proprio... quando noi parliamo di una città, perché molto probabilmente ci sono detto che noi matrimoni siamo molto... Aiutati, che Dio ti aiuta. Ma noi credo che noi non cogliamo essere aiutati. Perché ognuno vuole vivere nel campanile e nel proprio paese pensando che quella piazza, quel posto dove è nato, è tutta la vita. Noi le amministrazioni comunali del matrice, come investimento sul matrice, sul lago del matrice che è nato attiva, che cosa? Qual è l'investimento che propone ha? Cioè, voi immaginate che se non ci fosse stata la farola del matrice non esistesse proprio come momento attrattivo del turismo. Nel bene o nel male? Si è fatto speculazione o non si è fatto speculazione? Non entro in questi fatti, per l'amor di Dio. Però la realtà è quella. Perché chi ha determinato quelle non regole di scrivere del capo, ha determinato che se c'erano quanta mila regole che stanno sopra la piazza ce ne sono rimaste trenta. E che un comune, come San Gregorio, che aveva 3.000 persone, sono natate 900 persone. Perché vedete, se noi non diamo un territorio attrattivo che è pertanto anche sostenibile e diamo all'uomo di continuare a rimanere e non gli diamo i servizi, ma per chi è una famiglia dove poter continuare a vivere a rettino o a gallegno? Per chi qualcuno di Valgardino ti sente come dire se dovrebbe continuare a investire su questa zona? Per mettere un disagio al proprio figlio che per poter raggiungere non l'università ma una scuola accessibile che non sia un interclasse e deve portare a tutti di volta? Cioè c'è da fare i più 40 km da capo che viva? Cioè voglio dire, i servizi diventano determinati. Allora, ancora qui, una volta, dobbiamo ragionare di quella politica. Ma quella politica è che noi dobbiamo fare niente al basso. Io ringrazio Vincenzo Girfatti per la sua capacità, la sua voglia anche di stare qui in mezzo a noi in un breve festivo per metterci a accompagnarci in questi incontri quando noi non discutiamo. Perché vedi, proprio noi negli anni passati questo è un po' più discorso di questo. Cioè qua si è discusso soltanto i seri primi che si affanno come da montagna a seri primi, i trenta giorni prima che si fanno le persone in un comune e dopo finisce tutto. Poi non ce ne freghiamo più nulla della feblogia di Fanno dove poterci arrivare non ce ne freghiamo più se l'ospedale ce lo aiutano non ce ne freghiamo più se eventualmente la domenica il treno non arrivo più a piedi volte e se ci abboniscono le corse pubbliche per poterci arrivare la gente. In questo caso devo fare di cultura ma non facciamo neanche di cultura però voglio dire permettono questi incontri e poi io credo che che la politica dà anche delle opportunità dove ci sta il mio maltrato lo confesso che nonostante c'è un investimento di 8 milioni sul territorio che è Italia e poi ci sta la parla mi sappiamo qualcosa? mi sappiamo qualcosa? ognuno ognuno la racconta per quelle cose che volevo fare però non ci riusciamo mai a mettere insieme e poterli immaginare che quando vivono in questo gruppo del sole locale il progetto del documentario perché non crede che un parto deve fare un calendario che avrebbe ma un gruppo del sole locale dove i comuni le associazioni ne fanno parte perché sono soci di quella di quella struttura dovrebbero mettere in conti di scambi la regione c'è un dato di finanziamento noi abbiamo poche idee però e concludo io mi auguro che su questa situazione dei castelli siano un volano per metterci insieme a ragionare perché no attrarre delle persone che possono determinare queste persone io credo che rendere un comune che sia attrattivo da parte di 10.000 dipende molto dall'altro che ci viviamo e credo che noi dovremmo noi per prima creare quelle condizioni di accoglienza che molte volte non diamo perché se voi venire a Piedimonte o nella zona ci non abbiamo un posto un orario dove parte un orario sono cose elementari noi diciamo di che cosa però io credo che ho accettato con un rumore una meraviglia da lavorare infatti forse siamo riusciti a mettere una tabella che è un posto molto importante allo Stato che abbiamo venuto in un parco del Malese ci siamo riusciti grazie il mondo dei castelli anche in Campania c'ha delle luci d'ombre è chiaro che noi siamo una regione anche le sue all'interno sono vocate diciamo più su tante altre cose ma questo è un po' vanno positivo in Irpinia dottor Ophina giustamente ricordava il progetto il guido in cui ci sono dei chiaroscuri delle luci e delle ombre qualche luce cedo quindi faccio diciamo per lo meno quello che era da qualche mese fa la realtà del castello di Casalcore dove c'è il museo dei castelli all'interno ed è una realtà che riesce a drenare 20.000 visitatori all'anno turismo scolastico sabato e domenica per di sempre è un castello tra l'altro non straordinario è forse nemmeno il migliore di quell'area insomma si vede che ho restato sostanzialmente Casalcore è difficile arrivarsi si è incastonato tra Benevento ed Avellino è complicato io ci sono stato devo dire parlo con ogni certo caso è semplice stato il problema è il modello di gestione io da tempo dico ad alcuni amici si spesso sono soli in quella volta ad affrontare i problemi il modello di gestione dei sistemi turistici è fondamentale è quello delle amministrazioni sovraordinate la provincia le associazioni il parco eccetera per aiutare i sindaci prima di tutto ad aprire in più alcuni monumenti ma c'è anche tutto un settore curia per esempio ci sono dei beni ecclesiastici straordinari Sant'Angelo da lì per il caso della Cappella di Sant'Antonio meraviglia italiana ed è una delle cose più belle che ci sono probabilmente in Campania dal punto di vista della storia della musica e della religione che è un crimine che si è chiuso diciamo è un bene ecclesiastico come fare di cosa hanno bisogno i comuni la curia la proprietà del Castello di Prata per aprire più giorni queste realtà senza mai toccare le proprietà cioè vediamo di cosa ha bisogno figuratevi che al Castello di Prata ci sono ben due musei di interesse regionali all'interno potrebbero beneficiare della legge regionale che aiuta ai musei di interesse regionale non lo può fare per il semplice fatto che non ha dei giorni di apertura utili è una legge che dà 30 mila euro circa l'anno di contributo ai piccoli musei della rete regionale Campania invece ne sono due si potrebbero fare tante cose ma se non si apre giustamente non si può accedere e c'è se ho aperto una volta al mese un giorno al mese oppure con beni culturali di grandissimo fascino ma che uno passa vi vede non ci può mai entrare oppure la cortezza romana di Sant'Aggio da Rifer o Pegadina insomma che un mestre ordinato l'applico dell'agricoltura diceva che un trattoio dei più antichi d'Italia un pozzo di storia prestato tra l'altro anche fatto bene ma il problema è il modello di gestione i comuni le amministrazioni il pubblico non fa il turismo non fanno in camion questo da nessuna parte del mondo occidentale forse era vero come i sovieti diciamo quando c'era il turismo ma non vuoi in nessuna parte il comune dà dei servizi di struttura fa le strade fa la potenza dei ventieri tenta di prendere dei fondi che possano servire a un pezzo di promozione eccetera eccetera ma poi servono le imprese le grandi imprese in camion no ma tre quattro ragazzi meno giovani cultori di storia locale gente di lunga vincanza dà una proposta da associazioni escursionistiche eccetera eccetera magari fanno una cooperativa una associazione una cosa e aprono a pagamento nel senso che chi viene a visitare paga noi dobbiamo toglierci dalle nostre zone che il piccolo bene culturale è gratis no si paga due euro due euro cinque euro ma per andare a vedere un pastello delle nostre zone si paga c'è una visita guidata si paga una professionalità che si paga si paga perché costa pulire abbiamo credito anche solo quello eccetera quindi togliamo il gratis da mezzo e togliamo il volontarismo da mezzo tanto di cappello alla prodotto che con grande professionalità anche in queste zone organizzano una volta l'anno l'evento aprono tutto e fanno benissimo tutto caro beh una volta l'anno va bene poi dopo non può fare la prova ma se ci stanno due ragazzi che vogliono mentre finiscono il cibo di studi eccetera guadagnarsi il weekend magari facendo anche i crediti universitari è una cosa seria oppure un'impresa agricola o un'impresa ricettiva o un restaurante che ovviamente ha detto a beneficiare del bene culturale che funziona e magari commettere un addetto che accompagna i turisti utilizzare per delle cose aprire uno che apre il locale apre pure il bene culturale si può fare oggi con procedure amministrative molto più semplici questo può essere di grande mano ma il modello di gestione non sognatevi di fare tutto con i comuni con i consiglieri comunali con uno va uno viene e cambia magari X eccetera quello che si è fatto di buono non si fa più eccetera ma esatto date servizi ma soprattutto andate con Vantellino a scoprire nei vostri comuni nei vostri paesi quei ragazzi ma anche tanti meno giovani eccetera eccetera o chi fa piccola impresa che vuole gestire un bene vuole gestire un income vuole investire dal tempo anche sui social per portare in genere qui non servono nei vostri comuni milioni di persone servono migliaia di persone consapevoli che abbiano capacità di spesa che possano apprezzare non rovinare il territorio e questo cosa si fa con queste risorse mi invito che trovate le risorse nei vostri comuni incoraggiatevi mettetevi insieme datevi forma all'impresa si può fare sono dei progetti con cultura crea chi presenta un progetto gli viene approvato senza nulla di cui fare quindi hanno anche qualche soldo diciamo se dovesse essere necessario per partire su questo tra l'altro sui modelli di gestione davvero ognuno a casa faccia la gestione ma io lo dico perché dal mio osservatorio e concludo anche facendovi un'ottima esperienza editoriale ma ho collaborato con Federica Web del web learning della piattaforma informatica della Federico II al primo corso online che hanno fatto sul turismo entro invito anche gli amministratori e queste risorse che vi poterete per scrivere perché è gratuito quindi non vedo nulla è un'occasione ripetibile in maniera gratuita per formarsi meglio su questo settore soprattutto relativo ai tipi comuni ci si iscrive online e si imparano le lezioni online ma poi anche le amministrazioni possano entrare in un settore che possano vedere come ha dedicato come diceva la sindaca di Alifra giustamente magari anche qualcuno si capisce tutto il bordo di studio della Federico II eccetera che può dare una mano per strutturare meglio un certo tipo di offerta ma è importante la formazione questo non è un settore di hobbysti questo è un settore di professionisti è un settore di imprenditori di lavori autonomi di persone che provano a campare o scrivendo contenuti o portando turisti oppure facendo prodotti o facendo relazioni a me è una cosa europea la provo la cosa è una cosa europea io ho partecipato due volte all'attraversare il Madrid una volta partimmo proprio dal Castello di Gioia diciamo come prima tappa il CAI qui per esempio è una grandissima professionalità a mio avviso tra i migliori d'Italia straordinari mi sono però chiesto come mai non fossero mai nati due ragazzi che magari in maniera indipendente dal CAI non riproponessero quella attraversale del paese non con il marchio CAI perché ovviamente la prima volta l'anno composti davvero contenuti ma proprio per un'esperienza associativa diciamo non riproponessero ad altri perché quella è un'esperienza che se uno si mette nei tre quattro mesi la vende a stranieri ovviamente ci vuoi i ragazzi che stanno per i percorsi che stanno per guidare che si facciano pagare per guidare eccetera ma lui c'è un business per essere col turismo escursionistico e sulle nuove mete che si vogliono ricercare c'è un business e concludo anche l'impresa agricola può fare stufa perché soprattutto quello che diceva Michele giustamente oggi l'impresa agricola è un'impresa vera è un'impresa che ha dipendenti un'impresa che fa fatturare milionari non c'è il piccolo contadino che arrabbatta voglio dire non c'è più è queste imprese che hanno anche terrestri non storie di terrestri fanno cose scellovinate pensiamo anche provare a dire chi ma apriamo di più anche non solo i castelli ma apriamo gli allevamenti di bufale ma noi partiamo il turismo è un gastronomo facciamo il turismo per il vino facciamo il turismo per l'olio qua pochi campani hanno visto l'allevamento di bufale c'è gente che abita a Salerno a Casetto che non l'ha vista per le momenti in bufale è una storia straordinaria perchè? perchè questo urbato che è un indietro che non concepisce questo ma anche qui in caso di scuola tra Reggio Tornone in Mondragone c'è un'azienda che ha un grande allevamento di centinaia di ettari eccetera circa 500 se c'è il turismo fa 20 mila euro l'anno con le vische aziendali e vanno un costo l'anno ma c'è anche questa realtà vicino vicino per se il turismo poi più realtà del genere cioè apriamo i campi non solo una volta al giorno una volta l'anno o una volta al giorno queste sono esperienze che le persone vogliono vivere e quando poi viene perchè ha visto l'evento e non può vivere nulla più e si arrabbia le leggi ci aiutano per esempio in questi giorni in concluso c'è la nuova legge sull'olio turismo il turismo dell'olio sembra una fesseria non è una cosa solo per la Toscana o per la o per la Puglia eccetera ma con la grande biodiversità anche qui con le particolarità che ci stanno piccoli segmenti noi lo stiamo a vedere per un anno per un giorno per due giorni per tre giorni eccetera ci sono anche fondi che aiutano l'azienda a implementarsi in questo modo perchè poi anche la possibilità di studio eccetera quindi io termino su questo dando questi input diciamo disponibili ovviamente sia al collaboratore con il nostro giornale di istituzione gratuita sul Caserta ovviamente da risparso tutte le iniziative il termino va mangiando una proposta il fatto di stare insieme e comunitare insieme le iniziative si andate su festivalgranzasso.it che è un portale che mette insieme tutte le attività si fanno nel gran sasso non per forza di niente o di un altro dall'azienda privata che fa la demonstrazione di vino fino alla grande manifestazione pubblica ogni giorno c'è un'azienda di gran sasso in cui può fare un sacco di cose questa vicenda a cui farlo voglio dire o utilizzando i canali di una buona editoria che avete sul territorio oppure i canali istituzionali del parco del Matese e selezionando quello che c'è sul territorio voglio dire il visitatore si fa una visione può anche programmare qualche giorno in più e dà una visione insieme insomma è molto semplice a farlo non costa nemmeno se vogliamo da questo punto di vista grazie avendo sentito gli interventi dei sindaci e del direttore Luffredda di Carlo e la dottoressa Lunditti noi dobbiamo però avere chiaro che il parco ha un fine che è quello della tutelina e della conservazione e successivamente gli è stato dato il compito di promuovere uno sviluppo sostenibile poi all'interno della tutelina e della conservazione del territorio vi dico questo perché perché purtroppo quello che diceva il dottore Luffredda è la verità cioè se chi magari mi ha preceduto e non entro nel mezzo dell'attività ognuno fa quello che ritiene però vi assicuro che quando la normativa dice che il presidente non ha funzioni amministrative gestionali dirette il presidente non può firmare l'organizzazione e allora noi ci troviamo cara con un territorio che probabilmente avrebbe dovuto impugnare tutti gli altri posti in essa e non lo ha fatto e non lo ha fatto allora io vi dico queste cose non le consideriamo consideriamo il fatto che quando mi sono insediato che organizza la sagra del mezzogiorno d'Italia più accorsata che c'è aveva promosso la quarantunesima edizione del 2018 il logo del parco non c'era la quarantaduesima la conferenza stampa l'abbiamo fatta nella sede del parco allora con questo che cosa vi voglio dire noi dobbiamo prima recuperare i rapporti e capire chi siamo e dove vogliamo andare secondo aspetto se nasce il distretto turistico Matisse e non ci sono i comuni della provincia di Casetta di che cosa stiamo parlando allora secondo me facciamo un attimo tutti quanti un esame di scienza io mi continuerò a stressare con le tante iniziative che abbiamo posti in essere in quest'anno e mezzo vi dirò però anzi quando vi chiederò dei dati vi chiederò una mano vi dirò anche qual è la deadline cioè io entro tre giorni voglio questi dati diversamente lo dovrò provvedere da solo perché quando vi ho chiesto dei dati voi li avete finiti adesso è necessario fare un altro libro adesso è arrivato il momento di operare però ci siamo dati degli obiettivi abbiamo detto immaginate che fare il presidente del parco regionale ma non lo dico perché lo sto facendo io ma mi assicuro è una cosa difficile perché all'improvviso potrebbe arrivare un telegram un fax una PEC dal ministero in cui dice è nato il parco nazionale che è stato nominato il commissario viene automaticamente vengono meglio accessare tutti gli enti di tutela e conservazione intermedi che si occupano di Matese quindi io potrei tranquillamente terminare il mio mandato non succede non succede ma le assicuro che in un anno e mezzo io ho dovuto fare un programma quotidiano perché io non sapevo quale fosse il programma perché quando mi sono insediato era stato già istituito il parco nazionale allora con questi così come era stato già istituito distretto turistico con i comuni del Beneventano e non i comuni del Casitano e allora io penso che noi abbiamo messo in piedi e dico e sottolineo noi abbiamo messo in piedi un miracolo io se credo non è un miracolo perché dopo lo scontro che abbiamo avuto dopo la fiera di San Martino del 2018 noi adesso stiamo lavorando con i popoli perché quando Goldiletti mi presenta un progetto per favorire l'occupazione a rendere cioè o meglio prendere o evitare lo spopolamento che secondo me già è avvenuto già c'è stato chi è rimasto vuole vivere qui allora vi dobbiamo dare le possibilità e i servizi per farlo bene però vi assicuro che tutto quello che abbiamo costo in essere il calendario delle iniziative sembrano cose banali ma vi assicuro che non è semplice perché se oggi noi ragioniamo e tu mi dici questo calendario meglio che sulla pagina Facebook nel 2020 ci saranno tutti gli eventi di gioia e magari il Comune di Arifero vuole fare un evento nello stesso giorno Alessandro non potrei fare nulla perché Arifero organizza nello stesso giorno sia chiaro sono i mercadini di Natale sono gli imprecci è inevitabile ma viene dovunque dico però un'altra cosa rendiamo conoscenti le quelle che sono tutte le iniziative allora il parco su questo può essere un diciamo un colmante un colmante di quelle che sono delle informazioni da dare a tanti soggetti un'altra cosa e mi faccio il parco nazionale se il parco regionale è stato attrazione casertana il parco nazionale sarà attrazione beneventana perché i comuni che avranno diciamo la magna pass non di territorio ma di rappresentanza nella comunità del parco saranno i comuni della provincia del Penedetto saranno circa 19 comuni con questo che cosa voglio dire è un'occasione per loro e per il territorio della provincia non è un'occasione sono diversi gli aspetti il parco regionale e lo sottolineo e mi fa piacere che oggi venga fuori questo dato il parco regionale non è riuscito a svolgere e ad avere quel culo che era stato previsto ma perché perché non è stato o mai non si è dotato di quelli che erano gli schismati di gestione con i piani regolamenti e quant'altro questo è il tema benissimo vogliamo un parco nazionale che faccia la stessa cosa del parco regionale assolutamente non e allora ragioniamo come stiamo facendo quindi per questo vi dico io oggi sono contento però continuerò forse anche in manica ancora più energica a starmi colfiato sul collo perché diversamente noi non possiamo perdere è un tentativo io sapevo che era fallimentare il messaggio del parco regionale è un messaggio fallimentare che non entra nella mente dei cittadini del Matese perché è stato un ostacolo allora ho detto cerchiamo di venire l'altra faccia della medaglia allora sul turismo accessibile non è soltanto allora sul turismo accessibile vi racconto questo e poi non parlo più lontano o non lontano 2016 io vero che faccio lavorare il ciclista ma mi occupo l'anno di progetti europei con l'alberghiero di Piedi Monte Matese insieme all'alberghiero di Teano strutturavano un progetto Erasmus per la formazione dei giorni studenti dell'istituto dell'alberghiero per formarli nell'ambito del turismo accessibile abbiamo inviato 80 ragazzi di cui 20 sono stati in Austria che hanno lavorato in strutture di eccellenza dove sapevano cosa dare da mangiare i nefropatici sapevano cosa servivano i diabetici sapevano come portare i disabili a far vedere a far fruire le mostre delle mostre esistenti di tutta l'Austria lo abbiamo fatto con l'Irland l'Inditer e la Colonia non è difficile non è difficile però ogni volta noi sembriamo arabi oppure se io devo pensare che dentro questa sala qui siano dei detrattori che scrivano magari su Facebook che il presidente del parco è uno scienziato visionario allora ma scrivetelo pure io però ho la coscienza a posto e loro hanno la coscienza a posto di aver detto oggi delle cose reali concrete che servono al territorio e poi un'altra cosa e mi taccio io farò solo quando non ci non farò più presente il parco regionale scriverò scriverò tutto quello che ho fatto e ho realizzato e lo darò al livello dell'eccessore poi sarà la sua sensibilità a continuare diversamente io non potrò fare nulla perché io è vero che ho fatto diversamente rispetto del livello dell'eccessore sui quali ripeto non dico nulla però condivido una cosa quando dicono la regione probabilmente non ha creduto nei vari lo stanziamento delle risorse economiche perché il 2018 era pari a 45.000 euro probabilmente avremmo altre risorse ma con 45.000 euro un parco regionale come quello del Matese di 33.000 euro quindi secondo me 500.000 euro probabilmente e neanche si farebbe tanto questo allora a partire dalla segnaletica dalla toponomastica vi voglio aggiornare sulla questione relativa a Caglianello l'indicazione parco del Matese abbiamo scritto al Ministero dei Trasporti stiamo chiamando tutti i giorni sembra un'impresa impossibile ma ci vogliamo uscire e vi assicuro mi fa piacere che mi stai riprendendo riprendendo perché tu sei diciamo un'ora al quale io non lo dovrei se non lo metti il Ministero dei Trasporti lo metterà l'avvocato Giffratti perché non è impossibile neanche attendere 35 giorni ad oggi 35 ad oggi mi sto contando non è impossibile allora per questo continuiamo così avremo le nostre soddisfazioni però diciamo che questi imponi che servono per te questo è un cenacolo è una comunità che esprime quelle che sono le progetti e viva Dio che ci sia il contrasto meno male che non siamo tutti allo stesso modo meno male perché attraverso il confronto riusciamo veramente su carta probabilmente spero anche una proposta turistica ma che sia tale che sia una proposta turistica tutto qui grazie 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 ok grazie 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 c'è grazie o a Gioia Sanitica, o a Dalizio, ma anche ai gruppi e anche a altre parti. Per esempio, l'unico che è stato ascoltato, il sindaco di Castiglione del Largo, ha spostato 90.000 persone, spendendo 30.000 euro. E ti capito di che cosa parliamo? 90.000 persone, che sono venuti in quattro mesi a Castiglione del Largo, sempre vendevano un caffè, speso 90.000 euro. Il biglietto di ingresso alla mostra, di 12 euro, fate il conto di quattro mesi al comune di Castiglione del Largo quando hai ingressato. E allora vogliamo fare finita. E insieme a più, vi sono 40 anni che sento sempre le stesse cose, ne posso proprio più, no? E mettiamoci insieme, oppure diversi comuni, e organizzare la crosta iniziativa. Noi prendiamoci in giro, con le mostre e il popolo delle croste, ma proprio croste, perché in arte, quando uno dice croste, è il dispregiativo dell'arte. E ne ho viste in questi anni, tra via di Montemattese e compagnia a casa, la cara del signore di Lomaso, delle croste ove.